è lei la ragazza diamante sono un grande fan questo è il suo autografo ti amiamo ovviamente ciao ragazzi ciao zaffiro come va ma dove sono tutti? ciao questa è per te chiamami quando hai finito di pulire cosa? ecco la colazione c'è pochissimo latte ragazze date un po' di latte a papà certo papà ecco la tua colazione di diamanti e io aggiungo gli zaffiri non credo sia necessario papà dovresti provare il granato invece grazie ragazze credo che potrei iniziare la dieta hai rovinato l'appetito di papà cosa? sei stata tu? è colpa tua ferme vi ricordate quanto eravate carine da piccole? tre fagotti meravigliosi con delle meravigliose bimbe dentro è stato tanto tempo fa ma dov'è papà? se n'è andato! suona l'allarme? calma voglio che facciate pace e andiate d'accordo non che litighiate un singolo secondo va bene mentre voi ricordate i bei tempi io mi prendo una pausa in hondresort poi se n'è andato per colpa tua no colpa tua ciao ragazzi venite alla festa viene anche lei? no è un errore ci vediamo ci vediamo venite alla festa ci vediamo stasera orecchini di diamanti e una corona devo essere bellissima trucco brillante più accessori perché sono uno zaffiro misterioso oh no! un brufolo! lo coprirò con una pietra il granato è pronto per la festa spostati! non vedo niente! ehi! lo specchio è per tutte! ho un'idea! farò un braccialetto con un cerotto disegnerò dei gioielli con un pennarello fatto! ragazze guardate il mio braccialetto non hanno nemmeno guardato mi serve qualcos'altro lo so! farò un berretto elegante è un oggetto unico di sicuro taglia dei pezzi di tulle cucili attacca delle pietre decorative ecco lì! ciao! benvenuti! grande festa! venite tutti qui! wow! ma dove vanno? e noi? granato! sei stupenda! e il tuo berretto è un capolavoro! grazie! prendete questo, sorelle! cosa? è solo un berretto? oh! mi annoio! è orribile! questo anello è carino però lo prendo! paghi in contanti? no! in diamanti! wow! l'intero negozio è tuo ora! ottimo affare! sorella? ciao! prendo questo vestito ecco i soldi! non ho bisogno di soldi! qui accettiamo solo diamanti! cosa? stupido negozio! il prossimo! granato ha portato il suo amico! ciao! ma è lui! il dottore della pubblicità! vuoi avere un sorriso smagliante come questo? vieni alla nostra clinica! sarà mio! non mi sento bene! chiama un dottore! uomo a terra! devo aiutarla! cosa? chi è a terra? aumento della frequenza cardiaca? doc! starò bene? certo! devi andare in ospedale! per favore non lasciarmi! ti supplico! che infame! doc! mi sento meglio con te qui! non serve più andare in ospedale! cosa? ci sono cascato! ma dove va? mi sento male! cosa ne pensi del mio accessorio alla moda? wow! io ho una nuova collana! guarda la mia! bellissime! posso provarle? no! come volete! mi farò un accessorio tutto mio! sarà unico nel suo genere! una spilla fantastica! disegna un melograno sul feltro decora con un filo di strass riempi con piccole perline e strass ritaglia! incolla il cartone e un altro strato di feltro sul retro attacca una spilla meravigliosa! meravigliosa! l'ho fatta io! buongiorno sorelle! non volevo! ah certo! non riesco ad aprire il barattolo! ma è stato un incidente! qualcuno mi chiama! basta! lo romperai! cosa pensi di fare? a questo telefono serve una custodia come questa! ora è al sicuro! non ci dà una custodia in silicone con carta vetrata decora con diversi strass mettici dentro della gomma a piuma aggiungi una catena wow! grazie! 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 ora non cadrà più! diamante! sei un vero tesoro! ah! cuffiette! volevo proprio ascoltare la musica! oh sì! adoro questa canzone! ma dove ho lasciato le cuffie? sono sulla mensola? no! incredibile! perché hai usato le mie cuffiette? ti ho detto di non usare le mie cose senza chiederlo! ehi! mi ascolti! hai detto qualcosa? dammi le mie cuffie! serve un po' di magia di zaffiro qui! ora non ti perderò di sicuro! dividi una catenella a metà infila una perla di vetro su uno spillo e appendila alla catena attacca due catenelle a un anellino decora bijou con uno strass e incollali su uno spillo aggiungi l'anellino con le catenelle inserisci le cuffiette sono cuffiette e orecchini eleganti allo stesso tempo posso provarle? ecco! grazie! prego! accendo la musica sono diventata sorda! amo questa canzone! è l'ora di pranzo! finalmente posso fare uno spuntino ah! il mio porta pranzo! è vuoto! sorelle! bene! non dimenticheranno questa merenda per molto tempo sciogli l'isomalto aggiungi della polvere perlata commestibile cospargi uno stampo in silicone con glitter commestibili e versa il composto sciogli il cioccolato bianco e coloralo con polvere perlata commestibile versalo in uno stampo con glitter commestibili rivesti con un altro strato di glitter commestibile e aggiungi i cristalli di caramello avvolgi con un involucro decorativo hai cioccolato? wow! è oro! posso averne un pezzo? anch'io! ok! ecco! buon appetito! il mio dente! ah! è duro! sono diamanti? ecco la vendetta per esservi mangiate il mio pranzo! questa è la mia scena preferita! ora sarà tutto finito! chi è spento la luce? ma dai! non funziona! calma! troverò l'interruttore oh è inutile! è inutile! peccato! dimenticavo! i miei occhiali sono abbastanza luminosi! taglia la parte inferiore di una vecchia montatura e rivestila di smalto acrilico ritaglia un diamante dalla gomma piuma attaccalo sulla plastica trasparente e decoralo con strass fissalo alla montatura è così luminoso! serve una protezione! potremmo farci un selfie! non voltarti! l'illuminazione è fantastica! ok! hai iniziato tu! no! sei stata tu! ferme! sta chiamando papà! ciao papà! ciao ragazze! mi siete mancate! sarò a casa sabato! ci vediamo! ciao! aspetta! sabato è il compleanno di papà! oh! la nostra casa è un casino totale! cominciamo a pulire! ma voglio pulire! oh! una scheggia di diamante! lo sapevo! questo va nella spazzatura! questo è tuo! e questo è tuo! grazie! una pianta! hai! una scheggia di granato! il divano è apposta! una scheggia! è di zaffero! è lui! papà! sei a casa! ci sei mancato! entra! abbiamo una sorpresa per te! buon compleanno! le mie ragazze sono così felice! è un regalo da parte di tutte noi! grazie! casa dolce! casa! grazie! ragazzi! grazie! grazie! Grazie a tutti.